ben trovati amici di le fonti tv siamo nel pieno della nostra finance and tax tv week con un nuovo dibattito un dibattito che sono sicura vi darà molti spunti interessanti e soprattutto costruttivi perché fondamentalmente a partire da alcune norme che sono cambiate ci concentreremo sulla vita reale quindi sull'economia reale quindi argomento che interesserà di fatto molte aziende molti di voi appunto che ci state seguendo e il dibattito prevede l'argomento che leggete in sovrimpressione quindi i reati fiscali dopo la riforma partiremo da qui per capire cosa è cambiato e soprattutto come proteggere l'azienda per questo vi ho parlato subito di economia reale prima di dare il via al dibattito e di presentarvi i miei ospiti facciamo un breve ricapo giusto per entrare nel merito del tema parliamo del decreto fiscale 2020 che è collegato con la legge di bilancio che ha visto modificare che vede modificare la disciplina dei reati tributari cosa è successo il legislatore ha da una parte inasprito le pene e dall'altra parte ha abbassato le soglie di punibilità quindi sostanzialmente se dobbiamo tradurre in termini reali si può incorrere reati con maggiore facilità e nello stesso tempo ci sono anche delle sanzioni più dure rispetto al passato e non è solo questo perché per la prima volta in assoluto è stata estesa per i delitti più gravi la responsabilità amministrativa delle società ex 231 è di fatto parliamo dunque di una rivoluzione di fronte alla quale si trovano molte aziende che devono navigare un po' a vista io uso spesso questa espressione quindi la uso anche in questo caso nel corso di questa trasmissione cercheremo di capire come fare per far sì che possano proteggersi al meglio io ne parlerò con massimo ferrari presidente affi associazione fiscalisti d'impresa che ritrovo con molto piacere peraltro vis a vis perché era già intervenuto nella prima edizione della finance and tax tv week però da remoto perché eravamo nel pieno del lockdown giusto ricordo bene e avevamo parlato proprio delle dei punti attraverso i quali affi si stava muovendo per cercare di far ripartire il paese proprio attraverso le imprese quindi insomma un dibattito che ancora oggi è decisamente vivo assolutamente assolutamente oggi cambiamo argomento innanzitutto grazie per il nuovo invito a questa chiacchierata questo dibattito su un tema caldissimo devo dire un tema di grandissima attualità per le nostre imprese cosa è successo nel 2020 cosa sta succedendo nel 2020 faccio a salutare anche giorgio perroni founding e managing partner dello studio specializzato di diritto penale perroni associati grazie per essere con grazie a voi insomma lei ci darà qualche consiglio effettivamente più mirato no per soprattutto trasmettere queste conoscenze a chi ci segue perché sono fondamentali anche perché poi quando ci sono delle nuove norme e si cambia non sempre sia confidenza con la materia e quindi grazie per essere qui anche lei allora appunto ferrari partiamo proprio da quello che lei già stava accennando che cosa è cambiato rispetto al 2019 quindi da che punto dobbiamo partire certo allora direi che nel corso del 2020 le nostre imprese sono state se posso un po' travolte oltre che dalla pandemia anche da un flusso incessante continuo di novelle normative sia di matrice comunitaria che di matrice nazionale quindi italiana inizierei come ha fatto lei dai reati tributari quindi riforma dei reati tributari sono cambiati tanti aspetti ma il punto da lei sottolineato è sicuramente a mio avviso quello fondamentale tendenzialmente le soglie di punibilità si sono abbassate tendenzialmente le pene si sono alzate e questo è di per sé un motivo di preoccupazione dopodiché dopo 20 lunghi anni il legislatore ha deciso di far rientrare questi nuovi reati tributari nella legge 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti che vuol dire che oltre alle sanzioni proprie del decreto legislativo 74 del 2000 abbiamo anche le sanzioni ex 231 secondo elemento secondo motivo di preoccupazione ma non mi fermo qui perché passando al piano comunitario il nostro legislatore ha recepito la direttiva pif che ha fatto rientrare nei reati presupposti della 231 anche tutta una serie di reati diciamo meno gravi a condizione che ci siano delle diciamo degli elementi particolari un danno per la comunità europea quindi iva almeno due paesi coinvolti e un danno diciamo erariale superiore ai 10 milioni quindi anche la direttiva pif da esaminare da studiare last but not least citerei anche il recepimento in italia della direttiva dac6 che in estrema sintesi impone a tutte le aziende imprese italiane e non solo direi imprese europee l'obbligo di comunicare alle rispettive autorità fiscali le operazioni potenzialmente fiscalmente aggressive e se lei vorrà avere un evento su che cos'è una un'operazione potenzialmente fiscalmente aggressivo penso che potremmo parlarne per delle ore quindi questo è il nuovo scenario in cui in cui ci muoviamo chiudo semplicemente con una riflessione è chiaro che si sovrappongono piani sanzionatori molteplici parliamo di sanzioni amministrative penali parliamo di sanzioni diciamo così amministrative tributarie penali tributarie e 231 tema interessante e per l'imprenditore e per gli esperti della materia infatti c'è una somma di tante cose quindi insomma è da lì per quello bisogna cominciare a parlarne appunto per Roni l'avevamo già detto l'ho già detto io nella premessa e l'ha confermato anche il dottor Ferrari insomma le aziende le imprese si trovano di fronte a uno scenario totalmente nuovo ma soprattutto devono navigare a vista non so se è l'espressione più corretta mi piacerebbe capire esatto qual è il perimetro entro il quale devono comunque muoversi e quali sono le cose maggiormente da attenzionare in questo contesto le aziende devono navigare a vista perché ripeto come avete già detto voi ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale il legislatore ha previsto un inasprimento complessivo del sistema sanzionatorio attraverso l'aumento di pena per gran parte dei reati dichiarazioni fraudolente omessa dichiarazione dichiarazione infedele occultamento di scritture e documenti contabili emissione di fatture per operazioni inesistenti e poi ha anche previsto un inasprimento delle misure di aggressione patrimoniale in particolare per quanto riguarda la persona fisica è stata introdotta la famigerata con fisca allargata o per sproporzione seppur inquadrata all'interno dei reati più gravi mi riferisco ai reati di dichiarazione fraudolente di sottrazione fraudolenta di imposta e con riferimento specifico anche ad elevazione di un certo interesse e di un certo livello così come ormai per la persona giuridica è prevista e consentita la confisca e il sequestro per equivalente che prima non c'era e che nasce proprio dalla introduzione dei reati tributari come reato presupposto per la 231 una confisca per equivalente che tanto per far capire a chi ci ascolta consente sostanzialmente il sequestro e la confisca anche ad esempio dell'immobile che viene acquistato dalla società attraverso il risparmio di spesa che costituisce sostanzialmente il profitto del reato tributario accanto a questo vi è però una volontà del legislatore anche di potenziare quegli istituti che tutelano gli interessi erariali istituti finalizzati al recupero dell'imposto di vasa e quindi si è allargato anche il perimetro della causa di non punibilità nel senso che c'è stata una estensione di questa causa di punibilità anche alla dichiarazione fraudolenta e sia l'articolo 2 che l'articolo 3 limitatamente però ai casi in cui il procedimento amministrativo e quello penale non sono ancora iniziati quindi si sono mossi e il legislatore si è mosso su queste due direttive è evidente che in una situazione come questa per la società la protezione maggiore nasce essenzialmente dalla adozione di un modello 231 che sia un modello completo analitico specifico che sia cioè in grado di mappare quei reati tributari nel modo migliore in modo da proteggersi dalle aggressioni tra virgolette che possono determinarsi sia dal punto di vista personale che dal punto di vista diciamo così patrimoniale esatto entrambe le sfere insomma sono toccate quindi per questo si parlava di una sorta di giungla e io ho detto subito che lo scopo anche di questo dibattito al di là di capire quello che state spiegando molto precisamente voi come ci si deve muovere poi in quella che è la quotidianità quindi parlare proprio di economia reale quindi Ferrari insomma la domanda sorge un po' spontanea gli imprenditori cosa possono fare almeno da cosa partire per cercare questa tutela questa protezione assolutamente prendo spunto dalle parole dell'avvocato perché in impresa io sono più vicino alle grandi imprese ma direi in impresa nelle imprese ci si sta ponendo una domanda fondamentale posto che questo è il nuovo scenario che ci piaccia o no è il nuovo scenario la domanda fondamentale è se i nostri sistemi di diciamo di controllo del rischio fiscale che magari erano adeguate che noi ritenevamo diciamo così perfettamente in grado di tutelarci lo sono ancora oggi nel nuovo scenario quindi il nuovo scenario sistemi di controllo del rischio fiscale tax control framework è ancora adeguato cioè questa rete di protezione che spesso le aziende avevano già in essere bene devono essere rivalutate nell'ottica di un nuovo di un nuovo scenario e devono consentire all'imprenditore all'impresa ai manager la prevenzione assoluta del reato e se posso se il reato rientra nel diciamo nella 231 peggio ma comunque il reato è reato quindi l'impresa non deve commettere il reato a prescindere dalla 231 ma anche devo dire ancora più delicato deve evitare di essere coinvolto a suo malgrado nel reato che altri che ruotano intorno all'impresa potrebbero commettere i fornitori i clienti i professionisti quindi questa è la domanda però a fronte della domanda semplice risposta come sempre complessa quindi quello che nella mia esperienza e anche all'interno di AFI sto vedendo le imprese stanno rivedendo proprio i loro sistemi di controllo del rischio fiscale ma in questo caso non può essere solo il fiscalista di impresa il direttore affari fiscali a rivederlo non più il direttore affari fiscali ha bisogno di professionalità diverse quindi avrà bisogno di chi è esperto di processi e procedure avrà bisogno di chi è esperto di 231 avrà bisogno di chi è esperto di reati tributari perché lo scenario si è reso più complesso e più articolato chiudo e lascio volentieri all'avvocato perché c'è una domanda fondamentale la seconda che ci stiamo ponendo un po' tutti sia chi è in cooperative compliance sia chi sta guardando alla cooperative compliance sta decidendo entro non entro forse entro e la domanda è veramente questo istituto ci può proteggere di fatto di diritto non ci protegge ma di fatto dal reato tributario ecco ma quante domande ci sono lei ha detto prima seconda tante perché ha detto ce ne sarebbero tante allora può rispondere direttamente allora secondo me l'errore è credere che il sistema di controllo fiscale sia un sistema che protegge al 100% sulla tematica 231 è sicuramente uno strumento utile ma non è l'unico strumento e soprattutto non è uno strumento sufficiente le ragioni sono semplici allora il sistema di controllo fiscale è un sistema che le aziende adottano per misurare verificare controllare il rischio fiscale cioè il rischio di violazioni di norme tributarie e lo fanno con una struttura che è molto simile alla 231 nel senso che l'azienda che cosa fa? mappa i processi aziendali all'interno dei quali si annida il rischio fiscale dopodiché crea la procedura per regolare quei processi aziendali all'interno dei quali si annida il processo fiscale e poi effettua un'attività di controllo rispetto appunto al rispetto delle procedure questo è lo schema del sistema di controllo fiscale che è uno schema molto simile a quello della 231 però ci sono delle differenze fondamentali il sistema di controllo fiscale mappa il rischio fiscale mentre la 231 è finalizzata a mappare e controllare il rischio reato che è una cosa completamente diversa poi per quanto riguarda la 231 ci troviamo di fronte ad una situazione nella quale il controllo non viene esercitato da una struttura interna ma viene esercitato da un organismo autonomo, l'organismo di vigilanza, un organismo terzo che quindi dà garanzie di imparzialità e di verifica obiettiva terzo aspetto, nella 231 è previsto ed è obbligatorio un sistema disciplinare molto articolato nonché norme a tutela del whistleblowing questo ti fa capire come i due sistemi che sono in realtà simili non possono essere sovrapponibili e quindi rende necessario una attività in materia 231 molto analitica e penetrante io credo che le aziende per riuscire a superare questa situazione ma quelle che si creeranno in futuro perché ormai la 231 andrà sempre più ad estendersi ci saranno sempre più reati che verranno considerati all'interno del catalogo deve muoversi, e questa è anche la mia esperienza penalistica su questa direttiva che è 1. adozione del modello 2. aggiornamento del modello e per aggiornamento del modello io voglio far capire ai telespettatori che l'aggiornamento non è soltanto l'introduzione dei reati 231 che via via il legislatore decide di inserire ma anche ciclicamente una rimappatura dei rischi noi abbiamo aziende che per esempio hanno modelli vecchi di 10 o 15 anni modelli non più adeguati alla struttura e alla realtà dell'azienda terzo e quarto punto ovviamente un organismo di vigilanza che funzioni una formazione che funziona soltanto in questo modo attraverso una analitica rivisitazione del modello credo che le aziende possano contrastare questa nuova era esatto in 30 secondi però è chiaro che questo primo periodo sarà abbastanza critico perché adesso andremo a vedere anche quali altre zone d'ombra si possono individuare proprio per il tempo necessario a recepire tutto quello che lei ha spiegato in questi quattro punti sì è un problema di filosofia di filosofia dell'azienda perché molto spesso queste cose vengono fatte ma non con l'attenzione e la filosofia che meritano e ormai ripeto la 231 costituisce per l'azienda il vero pericolo perché non dimentichiamo che ci sono le misure interdittive misure interdittive importanti che possono tra l'altro anche essere messe in fase preventivo cautelare assolutamente sì zone d'ombra quali sono le altre? insomma anche perché poi così agiamo su questo posso confermare che il livello di attenzione per la 231 post ingresso dei reati tributari questa è la mia esperienza si è elevato tantissimo quindi sia da parte come diceva l'avvocato dell'organismo di vigilanza organo esterno ed indipendente sia del management perché la necessità di tutelare l'impresa è ormai assolutamente chiara io ho notato proprio negli ultimi settimani interessi fortissimi degli organismi di vigilanza e le aziende si stanno muovendo ma non è semplicissimo perché integrare un modello diciamo 231 con i reati tributari cercare di non sovrapporre il tax control framework col modello è diciamo una statuizione di principio ma poi bisogna veramente realizzarlo zone d'ombra ne cito una sola in estrema sintesi ante 2020 quindi ante ingresso nella 231 l'azienda che si era dotato di un tax control framework diciamo buono diciamo efficace e grazie magari proprio a questo modello identificava un problema poteva sanarlo ex articolo 13 del decreto legislativo 74 e quindi diciamo ho sbagliato mi ravvedo post ingresso nella 231 questo ahimè ai fini della 231 non è più possibile perché il lente continua ad essere responsabile quindi nonostante io abbia un modello organizzativo un TCF diciamo best in class voglio fare un caso accademico trovo un problema posso sanarlo per una parte del diritto diciamo così penale tributario non posso sanarlo per l'altro e questo sicuramente diciamo se guardo il futuro potrebbe essere una complicazione aggiuntiva che le imprese dovranno volente o nolente gestire ecco così si può collegare direttamente l'eperone cioè quali processi e procedure possono creare in qualche modo un cartello di protezione allora lì secondo me la mappatura deve riguardare deve riguardare sia le attività dirette mi riferisco al reparto e alla struttura fiscale ma deve anche riguardare le attività cosiddette indirette all'interno delle quali si possono annidare i rischi reato tributari mi riferisco alle vendite agli acquisti alle operazioni infragruppo e quindi questo processo di mappatura deve essere un processo analitico in parte le aziende l'avevano già messo in campo quando è entrato come reato presupposto l'autoriciclaggio ma devo dire che adesso deve essere fatto in maniera molto più articolata e molto più precisa proprio perché soltanto attraverso questo MOG strutturato inquadrato preciso e aggiornato le aziende si possono difendere ovviamente utilizzando non solo le strutture interne ma i professionisti che in realtà hanno un'esperienza su questo settore certo ecco un'ultima domanda a entrambi molto flash ma io prima parlavo di tempistica di questo primo periodo che evidentemente potrà essere molto complicato per le aziende che tempistica si può dare quando si deve recepire quando si devono recepire delle norme nuove che in questo caso sono veramente il risultato di una somma di più questioni che abbiamo elencato in questo spazio in questo dibattito commento velocissimamente le aziende a mio avviso stanno correndo ci sono dei tempi tecnici incomprimibili per cui se devo rivedere il mio tax control framework un minimo di tempo devo averlo il messaggio di fondo il take away se posso è quello di dire bene l'area del controllo del rischio fiscale perché tutte queste novità sono in questo ambito diventa ancora più importante e l'azienda dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per proteggerci per ogni allora l'azienda secondo me deve dare ampia dimostrazione di aver aperto tempestivamente il cantiere perché questo è il punto poi ovviamente le tempistiche di realizzazione di quel lavoro all'interno del cantiere variano a seconda della complessità delle aziende della complessità dei problemi che vengono trattati però non può latitare in ordine alla tempestività nell'affrontare il problema bisogna agire subito giusto per io un po' più in modo spiccio ma insomma mi pare di aver tradotto in poche parole il messaggio benissimo è stato molto interessante peraltro con Giorgio Perroni ne parleremo ancora nel nostro main event proprio come sapete nelle nostre tv week c'è sempre il momento portante in cui si fa un po' il punto rispetto anche a tutti i dibattiti che si svolgono durante la settimana quindi grazie a Giorgio Perroni di Perroni Associati e grazie naturalmente a Massimo Ferrari presidente AFI che ritroveremo comunque presto anche perché insomma magari tra un po' sarà il caso di fare il bilancio di come si è evoluta la situazione proprio a livello pratico per le imprese assolutamente tenendoci aggiornati grazie ancora grazie a voi grazie e grazie a voi per averci seguiti naturalmente buon proseguimento su Le Fonti TV grazie a tutti